Daniele Dal Moro è di nuovo sotto i riflettori, in primo luogo per la lite furibonda che ha avuto con la sua compagna Oriana Marzoli, che però oggi sembra essersi risolta e tra i due è tornato il sereno. Quello che invece non passa è il rancore che Dal Moro nutre per la produzione del GF VIP 7. Dal Moro, a quanto pare, ha deciso proprio di denunciare la produzione e si è confidato con i fan sui suoi social, dicendo che presto nelle sue live parlerà di ciò che avrebbe dovuto dire da mesi. Il problema è che al momento Daniele si trova impossibilitato a parlare, poiché dopo la sua squalifica dal programma è entrato in causa con la produzione. Qualifica arrivata dopo diversi tentativi di moderazione da parte degli autori, ma in seguito Daniele è arrivato ad assumere un comportamento troppo violento nei confronti di Oriana e il GF doveva correre ai pari. Buono sì, ma non coglione, a tempo debito dirò tutto. Queste le ultime parole di Dal Moro. Ai prossimi aggiornamenti!